Oggi abbiamo presentato la nostra nuova campagna abbonamenti, naturalmente quando si lancia la campagna abbonamenti si entra anche nel vivo della nuova stagione, una campagna molto spinta sui giovani e per la prima volta avremo mille posti in più da destinare ai nostri tifosi, in particolare 850 sono di gradinate e dunque riteniamo che la gradinata meriti un pubblico giovane e di conseguenza anche dei prezzi abbassati da destinare agli under 30 sostanzialmente. I luoghi dove potrà essere sottoscritta la tessera e rinnovata naturalmente la tessera sono due, la nostra sede in via Martire della Bettola e il nostro bellissimo store in centro in piazza Prampolini. Non obblighiamo nessuno ad accettare un pacchetto full che però fa parte della nostra offerta, dunque Serie A ed Euro Cup, però un tifoso può anche scegliere di presenziare solo le partite di Serie A o solo quelle di Euro Cup. Sia la Serie A che nel pacchetto full sarà compresa anche un'ulteriore partita che è un amichevole di lusso che giocheremo in via Guasco il 23 di settembre all'ora 21 contro la Vanoli Cremona. È un po' la nostra vernice, la presentazione della squadra alla città e anche questo penso che sia un bel regalo per tutti coloro che vorranno abbonarsi e che già da oggi ringraziamo in anticipo.